Qualche giorno fa molti dei negozi del centro storico hanno trovato attaccati adesivi raffiguranti una persona in carrozzella con il segno rosso di divieto. Nella campagna io non posso entrare. Gli adesivi denuncia riportano al centro dell'attenzione il problema delle barriere architettoniche nel centro storico che rendono problematico o impossibile alle persone con disabilità fisiche entrare in un qualsiasi esercizio commerciale per acquistare un capo di abbigliamento, un libro o semplicemente per mangiare un gelato. Il decreto ministeriale 236-89 mira proprio a eliminare le barriere per l'accessibilità ma a validità solo per gli edifici edificati dopo il 1989 o che in seguito a questa data abbiano effettuato una ristrutturazione totale. In centro storico molti locali a non essere adeguati e per farlo vorrebbero la partecipazione dell'amministrazione. Il mio negozio non è attrezzato. Riescono a entrare tranquillamente perché le porte sono grandi però i problemi architettonici nel centro di Prato sono tanti. A soli due giorni dalla protesta a Stento si riesce ancora a trovare traccia degli adesivi ma il problema resta. In Toscana soltanto il 18,8% dei comuni ha presentato e attuato il PEBA il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche che permette di accedere ai fondi destinati a questo scopo. Nella via dei negozi di Prato c'è per occhi le barriere, le ha già abbattute. Le handicapate che entrano con la carrozzina le serviamo tranquillamente proprio perché abbiamo l'accesso.